Stasera che sono arrivati per lui, Davide Salvi, eccolo qua Davide Salvi e con Davide riorganizziamoci con tutta l'orchestra perché va accompagnato Davide, il suo modo di suonare stasera si incrocia con il nostro modo di accompagnare, quindi non so, chiediamo a Walter per il microfono e per tutte le cose che servono per metterti in condizione di suonare allora, controlliamo le sposte alla fisarmonica di Walter, stasera ne arrivano le fisarmoniche cominciano, cominciano, prendi il microfono perché è giusto che saluti è giusto, c'hai tanti amici che sono venuti a posta, mi hanno detto sì, sì, li hai venuti per Davide vecchio bottone, vecchio bottone, quante volte sì, sì, perfetto, no, stavo dicendo con Moreno che ci conosciamo mezzi eh? vero? quanti sono di Bologna? è uscito, quanti sono di Modena? quanti sono di Reggio? quanti sono di Messina? erano lanciati, ci aspettavano Parma, scusa Parma? Tirenze? ascolta, va dritto per tre, va dritto, finisci, Piacenza Piacenza? Milano? allora, aspetta, Operazione Piacenza l'Operazione Piacenza Zocca? l'Operazione Piacenza la diamo in mano ai nostri amici piacentini che dovete raccontare Gatteo, quindi siete voi i nostri messaggeri quindi mi raccomando, mi raccomando allora allora no, tre che, aspetta, no tre balser no, tre balser tre balser, balser, mazzurca e polca va bene balser, mazzurca, polca e balser facciamo così come vuoi ok, intanto li facciamo un po' più svertichi così va bene vero? allora sette parti al massimo facciamo le richieste il primo è Allegra Fisarmonica poi dopo facciamo la miglia vacca una polca, grazie una polca bolognese e un altro balser richiesto bolognese che lo scopriamo dopo va bene va bene a te a te vai Davide Salvi bravo grazie a tutti 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 Grazie a tutti